Il Milanese Imbruttito è un canale che su YouTube può contare 450.000 iscritti che da anni gira l'Italia per far emergere quella che è l'ignoranza delle persone nei luoghi del divertimento e soprattutto nella città di Milano dove nasce questo progetto. Montaggi ad hoc e risposte che non fanno ridere ma dovrebbero anzi far riflettere sul livello di istruzione, informazione e cultura che c'è nel nostro paese. In questo caso le interviste hanno riguardato la costa gallipolina in località Baiaverde e le risposte sono in linea con quello che è il format del canale YouTube. A differenza però di quanto accade in altre occasioni in cui vengono montate anche delle risposte corrette questa volta non vi è traccia di una risposta al quesito di senso compiuto. Una pubblicità negativa soprattutto per il territorio e anche per l'economia turistica di una città che è etichettata alle volte anche in eccezione negativa come l'Ibiza d'Italia. Una vetrina destinata al popolo social che in poche ore dalla sua pubblicazione ha già sviluppato oltre 200.000 visualizzazioni sul canale e oltre 1.500 commenti che ovviamente sono tutti di tipo negativi nei confronti dei ragazzi che sono stati intervistati che con le loro risposte oltre a non accrescere la propria immagine hanno dato un duro colpo a quella che è anche l'immagine del turismo a Gallipoli che troppe volte è etichettata come una città destinata al turismo mordi e fuggi troppo giovanile che non porta soldi nell'economia della città. Insomma un qualcosa di cui il territorio salentino non aveva proprio bisogno. I no-vax sono quelli che dicono no a che cosa? No a? Fax. A? Ai fax? Ai fax. Ok. Sei intelligente, bagno?